ed ecco qui cucciolo un bellissimo gattone di 11 anni è rimasto un po in coda perché oggi per venire qua c'era un sacco di coda essendo quasi ferragoste adesso iniziamo la nostra toilettatura vero bambini guardate qualche meganodo iniziamo già in piano a snudarlo sempre col nostro super pettine guardate qua è importantissimo vedete che lui è un pelo corto comunque sempre importantissimo snodare i vostri animali comunque tenerli ben ben pettinati guardate qua quanto sottopelo guardate qui la snodatura e la slanatura quanto abbiamo tolto qua è di nuovo a posto per fortuna infatti non ha più un nodo ma guardate lui quanto è tenero questo gatto ciccione questo gatto ciccione che gli piace che la mamma ha detto vedrai che combatterà perché non gli piace fare queste cose ma qua dobbiamo dire che invece qua gli piace è vero bambino ma siamo bravissimi ma siamo bravissimi anche di qua c'hai ragione ed ecco qui cucciolo finito qua dove c'era il il grosso grosso nodo che potete vedere che era tutto fa anche rumore quando cade c'è un po di forfora questo perché è dovuto a che questo non permetteva all'ossigeno di passare quindi di ossigenare bene la pelle e quindi la forfora fa un po come una reazione allergica adesso che l'abbiamo tolto qualche giorno cadrà totalmente e lui tornerà bello fresco bello fresco per questo fine estate e bello pronto per ferragosto se dovesse trovare a 11 anni una bella ragazza chi lo sa vero cucciolo così bellissimo saluta un po ciao ciao alla prossima un po di peli ciao ciao alla prossima